Ben trovati. La situazione sanitaria resta al centro delle nostre attenzioni, anche per l'importante ricaduta che ha sulle cautele che dobbiamo osservare per poterla affrontare. Proprio mentre vi parlo si rincorrono notizie sulla possibilità per la nostra regione di tornare in zona arancione in anticipo rispetto all'ordinanza del Ministero della Salute che ci ha collocato in zona rossa fino a fine gennaio. Questa decisione dipenderà dalle valutazioni che tutti gli organi competenti dovranno assumere, a partire dai dati rilevati e rivalutati. È piuttosto chiara quindi l'importanza di disporre dei dati puntuali e affidabili. I dati di cui dispongo e su cui mi baso per le informazioni che vi riporto ogni settimana arrivano dai sistemi di ATS e presumo che siano gli stessi sistemi che gestiscono i dati su cui si basano le valutazioni complessive. Nelle ultime due settimane ci sono stati alcuni problemi di recupero dei dati che sembrerebbero in parte rientrati nelle ultime ore ma non saprei dire se si è trattato di un problema che ha riguardato il nostro comune o un bacino più ampio. Nelle estrazioni dei dati effettuate nei giorni scorsi infatti risultano delle anomalie nel conteggio degli infetti, dei guariti e dei cittadini sottoposti a quarantena domiciliare. Sono anomalie che si riesce a ricomporre parzialmente grazie al confronto meticoloso e sistematico che facciamo con i dati estratti nei giorni precedenti ma evidenziano come sia complesso elaborare e mantenere questi dati. Le informazioni che rappresento nei miei messaggi si riferiscono alle valutazioni settimanali dei dati che ricevo e in base alle ricostruzioni effettuate nella settimana dal 14 al 21 gennaio risulta che non ci sia nessun decesso a V-mercate legato al Covid. I cittadini positivi al virus sono aumentati di 28 mentre i cittadini guariti risultano cresciuti di 47 ma su queste informazioni potrebbe esserci un margine di errore. Dai dati estratti dal cruscotto regionale giovedì non è possibile rilevare il numero dei cittadini sottoposti a quarantena mentre nei dati di venerdì mattina i cittadini in quarantena risultano 77. Dai dati disponibili quindi con le dovute cautele si conferma una situazione stabile per la nostra città con un leggero miglioramento rispetto alla scorsa settimana in quanto i guariti risultano in numero superiore ai nuovi infetti ma occorre attendere e verificare che non vi siano errori. Grazie alla collaborazione con la direzione dell'ospedale disponiamo anche di un altro indicatore che registra il numero complessivo dei ricoverati e delle terapie intensive. Posso confermare che da inizio 2021 i ricoveri a V-mercate si mantengono stabili ad un livello di attenzione ma non drammatico come due o tre mesi fa. Indipendentemente da queste valutazioni le raccomandazioni sono sempre le stesse e sono finalizzate a tutelare la salute di tutti. Lo sforzo che stiamo facendo deve essere sempre orientato alla massima prudenza e dobbiamo valutare con attenzione le occasioni in cui ci esponiamo al rischio di contagio. Se si può evitiamo di uscire di casa o frequentare ambienti affollati. Il cambio di zona se confermato comporterà un allentamento delle restrizioni come la possibilità di muoversi all'interno del comune senza autocertificazione e il ritorno in presenza per una parte degli studenti delle scuole superiori. Alle famiglie sono stati comunicati i nuovi orari scolastici concordati con la gestia del trasporto pubblico che ha modificato di conseguenza i servizi rafforzandoli nella nostra provincia con 31 nuovi mezzi che permetteranno di eseguire 186 nuove corse al giorno. Nel nostro territorio vengono rafforzate le linee urbane e alcune linee extraurbane per l'omini comprensivo e l'autostanzione dal Gurgonzola, Ronco, Usmate Velate, Cologno, Metropolitana, Arcore e Gessate. Alla riapertura delle scuole entrerà in vigore il divieto di sosta in via Cremagnani di fronte all'Istituto Floriani. Verrà mantenuto solo il parcheggio dedicato ai disabili. Troverete le indicazioni esatte sul sito del comune. Restando in tema di mobilità vi ricordo che dal 1 febbraio saranno in vigore nuove tariffe differenziate per i parcheggi a pagamento nel centro di Vimercate. La prima modifica interessa l'area di Piazza Castellana, Piazza Unità d'Italia e Via Limitrofe dove si introduce una tariffa che agevola la sosta breve e penalizza la sosta lunga. La tariffa oraria infatti sarà di un euro all'ora ma si potrà sostare gratuitamente per i primi 45 minuti tramite la cosiddetta sosta gentile. Ricordo che per usufruire della sosta gentile occorre ritirare il tagliando alle colonnine inserendo la targa del mezzo. Ciascuna targa potrà usufruire della sosta gentile una sola volta al giorno. Terminata la sosta gentile si potrà prolungare pagando direttamente alle colonnine oppure in modo molto più comodo attraverso le app di pagamento abilitate che consentono di prolungare la sosta del proprio veicolo senza dover tornare al parcheggio. In questo modo chi lascia l'auto per 45 minuti non pagherà niente. Chi lascia fino ad un'ora e mezzo pagherà esattamente quanto paga oggi. Chi la lascerà oltre un'ora e mezzo pagherà di più di quanto paga oggi. Sul parcheggio di Sant'Antonio la modifica sarà secondo una logica opposta agevolando invece chi vuole lasciare l'auto per tutta la giornata. La tariffa base non cambia e resta di 50 centesimi di euro all'ora ma si potrà effettuare un pagamento forfettario di 3 euro che copre l'intera giornata fino alla stessa ora del giorno successivo di pagamento. In questo modo lasciare l'auto per tutto il giorno costerà meno di adesso e soprattutto non richiederà di aggiungere nuovi pagamenti durante il giorno come invece accade adesso. La tariffa su tutti gli altri parcheggi a pagamento resta invariata. Questa modifica è possibile grazie al moderno sistema di gestione del pagamento ed ha lo scopo di aumentare la disponibilità di parcheggi in centro per chi ha bisogno di posteggiare vicino ai negozi e ai servizi e agevolare chi utilizza il parcheggio Sant'Antonio per soste più lunghe. Per approfondimenti su questa novità e per tutte le altre notizie vi invito a seguire i canali di comunicazione del comune. Grazie e a presto.